Io vado spesso in un bar, vado spesso al bar dove ci lavora il mio amico Mario che è anche il proprietario del bar e praticamente lui mi racconta tantissime cose, mi racconta tante cose che gli succedono al bar. Una per esempio di recente che è successo è che è arrivato un cliente, è venuto una sera, un cliente molto diciamo normale, lui arrivava, ordinava due grappini e se ne andava. Il giorno dopo tornava, cioè tutte le sere, il giorno dopo tornavano altri due grappini, altri due grappini. Allora la terza sera gli ha chiesto Mario, scusa ma perché ordini due grappini e non ne fai uno doppio? Almeno risparmi, cioè non ti prendi due grappini, prendi un grappino doppio. E sai una cosa, c'è un mio amico a Bolzano che mi ha detto bevi anche per me quando vai a bere. Va bene. Allora cosa fa? Tutte le sere ordina due grappini. Una sera dopo ancora due grappini, un'altra sera altri due grappini, un'altra sera ancora due grappini. Alla fine arriva un giorno, una sera, arriva, che entra e gli dice un grappino. Mario gli dice, come mai un grappino sono? È successo qualcosa? È successo qualcosa al tuo amico? No, no, il mio amico sta bene, sono io che ho smesso, sto smettendo di bere. Applausi 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 Applausi